buongiorno a tutti ben ritrovati buona settimana tra un ponte e l'altro adesso c'è chi ha sfruttato il ponte del 25 maggio chi quello del 25 aprile chi quello del primo maggio adesso io cerco di continuare a tenervi aggiornati e tenere un po compagnia con la mia invi news oggi vi parlo come chi ha letto l'intestatina di citizen science la citizen science è stata codificata lanciata un abbondante paio di anni fa dall'università di los angeles ne parlo anche nel mio ultimo libro come un'attività interessante perché in qualche modo dietro un protocollo scientifico codificato da ricercatori universitari e quindi da scienziati che conoscono la materia oggetto di indagine ecco dietro questo protocollo ogni cittadino può contribuire aumentando in modo esponenziale quindi il numero di dati che spesso gli scienziati non riescono a raccogliere per poi catalogare studiare analizzare diciamo che mediamente appunto l'apporto che i cittadini danno e possono dare alla scienza è quello del monitoraggio della raccolta dei dati il mio carissimo amico franco borgogno è stato forse in italia uno dei primi ad applicarla in modo così importante con i campionamenti in giro per gli oceani e in particolare gli oceani freddi per campionare le plastiche e le microplastiche ma è sempre più diffusa fortunatamente perché ripeto da un lato dà un contributo significativo ai ricercatori dall'altro in realtà è anche un grosso strumento di sensibilizzazione e di informazione di educazione ai temi ambientali oggi la citizen science ve la racconto applicandola ad una specie di concorso ad una sfida che è stata lanciata anch'essa appunto all'università di los angeles la city nature challenge cnc che è andata in onda sta andando in scena proprio in queste ore in questi giorni fra il 26 e il 29 aprile oggi il 29 aprile quindi potete ancora contribuire e che cos'è un piuttosto semplice si tratta di scaricare un'app un'app sul vostro smartphone che sia un android o un ios ios quindi un apple questa questa app si chiama natu sfera create un vostro account quindi vi iscrivete e poi incominciate ad esplorare di intorni del di ciò che sta intorno a voi in particolare di alcune città e quello che vi viene chiesto è di fotografare ciò che trovate in particolare meglio se ciò che trovate è un essere vivente meglio ancora se nel mondo animale in modo che poi gli scienziati possano in qualche modo mappare la biodiversità all'interno delle nostre città e creare una mappa una mappa di specie che ancora vivono all'interno delle nostre città diciamo che in questi tre giorni dal weekend 26 27 ma come sapete non vado in onda con le nv news scusatemi sì 26 27 28 e oggi 29 c'è ancora tempo vengono fatti questi scatti vengono inviati raccolti dall'app e poi da domani fino al 5 maggio la comunità scientifica darà un nome cognome cioè un genere specie magari chissà anche varietà o se si tratta di di specie di specie vegetali o alcune particolarità se si tratta di animali quindi magari sottospecie di ciò che abbiamo e avete fotografato i risultati sono poi annunciati il 6 maggio e la sfida come dice il titolo è fra città quindi la città che avrà più scatti più repertorio delle specie analizzate repertoriate vincerà le città che hanno aderito ma questo non è un'esclusione rispetto alla possibilità di fare le foto sono la città di napoli città di ostuni la città di taranto che tanto ne ha bisogno catania lecce trento trinitapoli quindi da nord a sud ci sono un po tutti tant'è che si va dal museo delle scienze di trento alla città della scienza di napoli come partner e che dire scaricatevi l'app natu sfera cliccate spedite e contribuite a cercare di capire come sta come come stanno le nostre città come l'ambiente nelle nostre città qual è la biodiversità nelle nostre città intanto buona settimana a tutti ciao 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 ciao